Ciao, siamo partiti per la gara Ed è un venerdì che sono le 19.47 Ok, con chi sei in macchina? Con la mia mamma Ciao Con la Chiara La sua maestra E te E me, ok E tu sei già agitata o sei ancora tranquilla adesso? Sono tranquilla Sei tranquilla? Pensi che dormirai un po' in macchina? No No? Sei sveglia? Va bene, allora vediamo fra un po' come sarà la situazione Allora, l'Annelli ha comprato i fonzi Sono le 9.35 E cosa ci vuoi dire? Come sta andando il viaggio? Bene Bene, va meglio adesso con i fonzi? Sì Ah, c'è anche qualcos'altro Cos'hai preso? Non so se puoi dirlo Buonanotte 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 Ciao Ciao Cosa stai facendo? Io sto andando alla parire Buonanotte 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 Buongiorno Oggi mi sono svegliata alle 7 Per colazione ho mangiato un muffin 3 biscotti E dei norsi di un dolce Che non ti piaceva molto E come ti senti stamattina? Tranquilla Sei tranquilla? Hai voglia di fare la gara? Sì Le gimnaste del primo gruppo di lavoro si schierano davanti alla giuria Primo attrezzo cosa hai fatto? Parallele Sono caduto solo dalla verticale di sotto Sì Solo dalla verticale di sotto? Sì E dopo eri un po' arrabbiata? Sì Sì o no? O eri tranquilla lo stesso? Sì Volevi impegnarti per gli altri attrezzi? Sì 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 Poi dove sei andata? A Cinghietti Non sono caduta da niente Non sei caduta? A Cinghietti sei stata brava Poi cosa hai fatto? Il record a Cinghietti Non mi dici che fai il record Ah è vero Ho preso il record a Cinghietti E quant'è questo conteggio? 15 e 35 Poi hai fatto trave Che ti fa un po' paura vero? Sì E come è andata? Ah sono caduta da niente Sono piccoli di niente E' un po' paura di Cinghietti 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 C'è uno po' paura di Cinghietti E' un po' paura di Cinghietni E' un po' paura di Cinghietti Grazie a tutti 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 Poi ho mangiato Delle patatine, due giochette Un po' di coca e un po' di yogurt Bene Sei abbastanza piena adesso? Ciao a tutti Ciao a tutti